No commento. Preghiamo, preghiamo, preghiamo e basta. Come deciso da Papa Francesco al termine del processo canonico. Un no comment che stride con la lettera pubblicata dallo stesso Monsignore nei giorni scorsi. Lettera che ha suscitato forti polemiche per le parole in difesa di Marco Mangiacasale e che ha spinto il parroco di San Giuliano, Don Roberto Pandolfi, a rompere il silenzio prendendo carta e penna per chiedere le dimissioni del vicario episcopale. Devo pregare e basta in questo momento. Penso nient'altro che questo. C'è chi le ha chiesto di dimettersi? Sì, penso che in questo momento è bene così. La preghiera per tutti, adesso comincerà la quaresima quindi è un bel cammino, un bel momento anche di riconciliazione. Penso che l'ottica sia questa qua. Ma Don Roberto e le famiglie che hanno parlato non meritano una risposta? No, no. Le famiglie? Io dico di pregare e basta. Sono mancate delle parole per le famiglie o quantomeno sembra che... Ascolta, scusami ma adesso non voglio più davvero tornare sull'argomento. Grazie. L'invito è proprio quello della preghiera, di essere uniti tutti insieme, che è la cosa migliore. Nient'altro. Nel frattempo cresce l'attesa intorno al vescovo di Como, in questi giorni in silenzio perché ha le prese con problemi di salute. Al di là del comunicato diffuso dalla diocesi, Monsignor Coletti non si è ancora espresso pubblicamente sul terremoto che ha sconvolto la chiesa all'Ariana. E a chi gli chiede se il vescovo si è turbato dalla vicenda, Monsignor Riva risponde così. La vita è tutta un turbamento, è anche una gioia però, quindi le due cose sempre si alternano. Però non sono stati giorni facili? Come sempre, insomma. Gli alti e i bassi ci sono sempre. Lei ha scritto delle cose che hanno provocato delle reazioni. Sulle sue parole e le reazioni alle sue parole? No commento. Preghiamo, preghiamo, preghiamo e basta.